Guardia Grele, città di pietra, di sole, di natura viva, porta d'accesso nel regno della Dea Maya, dal mare alle montagne, lì scopriamo la storia, l'arte delle genti d'Abruzzo, custode eccellente dell'entemostra dell'artigianato artistico abruzzese. Ascolta il suono della natura che si trasforma e diventa un'opera d'arte, guarda le abilità dei maestri di luce, i gesti che creano forme e colori, vivi un'esperienza autentica, nel cuore della città di pietra a Guardia Grele, l'entemostra dell'artigianato artistico abruzzese ti aspetta dal primo al 28 agosto. Lasciati trasportare dalla bellezza.